Nasce da delle inadempienze da parte datoriale, a seguito anche di un accordo che era stato sottoscritto nel mese di febbraio presso il centro per l'impiego di Ragusa, nel quale venivano concordate tutta una serie di atti che servivano a regolarizzare alcune tematiche dall'inserimento nel comitato Covid degli RSA, cosa che è avvenuta solo in maniera meramente cartacea, quindi nessun confronto per quanto concerne tutti i protocolli e il coinvolgimento vero dell'RSA, anche per la tematica che riguarda le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dalla nostra richiesta dell'utilizzo, così come previsto dallo statuto dei lavoratori delle bacheche sindacali, dalla regolarizzazione anche di alcuni aspetti inerenti ai sistemi informatici sulla rilevazione delle presenze dei lavoratori e anche sul monitoraggio del loro operato. Da qui è venuta fuori una condotta sicuramente che noi riteniamo definire antisindacale da parte della società che ha ritenuto bene di operare con il licenziamento di una RSA, seppur loro lo definiscono questo licenziamento per giusta causa e dal recentissimo trasferimento di un'altra RSA da un'unità produttiva ad un'altra, in assoluto contrasto con quello che ci dice la norma e lo statuto dei lavoratori, è chiaro che anche rispetto alla posizione dell'azienda sul fatto che confermino che applicano il contratto collettivo nazionale, che lo rispettano in tutte le sue forme, è chiaro che così non è perché l'anno scorso è stato iniziato un percorso di, fra virgolette, riallineamento, tant'è vero che il contratto del commercio prevede l'applicazione della quattordicesima mensilità che non era mai stata erogata dalla società e per la prima volta è stata riconosciuta a decorrere, mi pare, dal mese di settembre del 2020. Quindi tutte queste iniziative che vedono un continuo conflitto nei confronti dell'organizzazione sindacale, piuttosto che un avvio di dialogo proficuo, collaborativo, per iniziare, abbiamo sempre auspicato un dialogo costruttivo per concertare un progressivo riallineamento e per ristaurare delle vere relazioni sindacali che ad oggi non si sono rilevate tali. Ma certamente ci rivolgeremo a tutti gli enti competenti per la tutela innanzitutto dei lavoratori e poi dell'organizzazione sindacale che ha il dovere di difendere quello scritto che si chiama statuto dei lavoratori che oggi alcuni datori di lavoro non tengono minimamente in considerazione e per i quali invece tantissimi lavoratori hanno anche dato la vita affinché si ottenesse tutto questo.